Hi kids! Ciao bimbi! Guardate che vi ho visto che ridavate tanto per quelle facce buffe che sono venute nel mio video precedente e purtroppo ho avuto qualche problema con la telecamera e ogni tanto capita, però la lezione è venuta bene lo stesso non fa niente, vi ho fatto sorridere un po', sono contenta ugualmente Allora, adesso vi chiedo di aprire il vostro book at page 58 In questa paginetta ci dice la consegna dell'esercizio Collega ogni frase all'elemento corrispondente, poi coloralo Allora, iniziamo prima con ripassare il nome di questi toys Abbiamo train, ball, robot, bike, train and car Io leggo la frase number one Voi con la matita tita andate a collegare il disegno a cui si riferisce Dopo poi colorate A green bike A green bike Number two A purple train Purple train Number three A pink car A pink car A pink car Number four A yellow train A yellow train Number five A red ball A red ball Number six Number six An orange robot An orange robot Adesso che avete collegato dovete colorare questi toys con il colore che vi ho letto Quindi la bike diventerà green In train Purple Car A pink A brown A yellow A yellow A ball A red And robot A orange E finite quindi colorando i toys Si passa poi alla pagina successiva Page 59 Eccola qui Allora Ripassiamo l'argomento che abbiamo imparato nel video precedente Quando io devo dire tanti giochi Devo aggiungere al fondo la letterina S Vi faccio un esempio Se io devo dire tre macchinine Dico three cars Aggiungo la S al fondo Se invece devo dire che ne ho una sola Dirò a car Non metto la S Perché ce ne ho una sola? Vi faccio un altro esempio Se io dico due libri Ne ho tanti Quindi aggiungerò la S Two books Ma se io devo dire un libro Dirò a book Non metto la S Facciamo un'altra prova Usiamo ad esempio la parolina school bag Lo zaino Se io devo dire cinque zaini Ne ho tanti Quindi la metto Five school bags Se dico che ne ho uno solo A school bag Così abbiamo ripassato anche un po' di school objects Vi ho messo un giochino da fare più tardi Allora Quindi Dobbiamo aggiungere Il nome della parolina E capire se dobbiamo mettere o no la S Allora Andate nella pagina iniziale Di questa mission 4 Dove ci sono i giochi scritti E li copiate Ogni letterina va scritta sopra Ogni trattino Perché dico di copiarli? Perché in inglese Ci sono delle regole di scrittura Che sono diverse Da quelle che noi stiamo imparando in italiano Perché Come vi ho sempre insegnato in classe In inglese Si scrive in un modo Ma si legge in un altro Quindi Bisogna semplicemente imparare piano piano A scrivere le paroline in un'altra lingua Non è per nulla difficile Vi aiuterete Guardando proprio come si scrivono Dalle prime pagine della unit 4 Va bene? Quindi Contiamo un po' How many balls are there? One Two Three Four And five 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 Dobbiamo scrivere Balls Con la S al fondo Perché ce ne sono tante Andate però a vedere come si scrive Ball B E a double l E poi si mette la S al fondo Balls Number two Questi si chiamano Drums Bene Dobbiamo mettere la S perché sono tante Contiamole One Two Three Four Five Six Six Two Bikes 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 B, I, T, I, S. B, che scola K. Bikes. Robots. Quanti sono? One, two, three, four. Four robots. La mettiamo la S? Sì, perché ce ne sono tanti. Robots. S. Ecco qua, number five, abbiamo il train. Che si scrive train? Train. La mettiamo la S? No, perché ce n'è uno solo. One train. Uno, quindi niente S. Infine number six. One, two, three. Three cars. La mettiamo la S? Sì, perché ce ne sono tre. Tante cars. Va bene? Quindi dal numero due in avanti la S bisogna sempre metterla, perché vuol dire che ce n'è sempre più di uno. Va bene? Ok, quindi ripeto, su questi trattini dovete riscrivere i nomi di questi toys disegnati accanto. Andate nella pagina precedente per vedere come si scrivono bene, perché in inglese si scrive in un modo, ma si legge in un altro. E dovete fare attenzione a quando dovete mettere la S. Quando ce n'è più di uno. Vuol dire tanti. Ok? La settimana prossima, bimbi, iniziamo la mission number five. Quando chiudiamo il collegamento, il video con me, sfogliatelo il libro. E vedrete che a partire dalla prossima settimana impareremo qualcosina sul food, cioè sul cibo. Ok? Have a nice week! Bye! Bye bye! Ciao!